salve ragazzi allora io devo fare un commento assolutamente perché qui stiamo veramente se oltrepassando il limite ho già fatto un commento un buon commento avevo fatto però purtroppo non me li prendo perché li faccio troppo lunghi e ha una durata massima dei video che io li supero sempre perché parlo molto facciamo un'analisi della partita allora che cosa dice il titolare della casa dello sport se agli anti romanisti per caso lo avessero letto dice che allora rigore per la juve il primo non c'era rigore per la roma non c'era allora rigore per la juve perché non c'era rigore per la juve non c'era perché sembra maicon sembra essere fuori area leggermente fuori area quindi la munizione per maicon ci dovrebbe essere stata lo stesso però non può essere rigore il fallo su totti perché non c'è non c'è perché è totti che prende l'externe per la testa l'externe cerca di divincolarsi però non ce la fa totti se lo tira giù perché totti che commette il fallo cari miei romanisti e totti che commette il fallo totti commette il fallo invece dell'arbitro da calcio di rigore per compensare quell'altro rigore che lui sicuramente sa che non c'era e che ha sbagliato e ha cercato di compensare assolutamente i cari romanisti voi vi lamentate ma se il rigore della juve non lo danno e si rimane sullo 0 a 0 e totti fa quel fallo totti deve essere ammonito e se ammonito totti va fuori ricordatevelo continuiamo la juve va su una 0 con il rigore di tevez poi il rigore di totti 1 a 1 c'è il gol del capitano della roma poi la roma va sul 2 a 1 e lì la roma le polemiche della roma sono vanificate ci sono vanificate la roma non ha polemizzato nulla 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 poi cosa fanno questi sportivi perché loro sono sportivi cosa fanno praticamente gervigno va in corsa caceres si stira e gervigno non si ferma non si ferma va avanti e si mangia un gol abbastanza clamoroso diciamocelo poi cosa succede succede che la juve in 10 contro 11 fa un'occasione llorente fortunatamente la da pogba pogba prende la palla la perde pianici arriva tutta corsa e lo tocca sulla gamba destra e questo è calcio di rigore netto se voi guardate nella gamba sinistra di pogba è un pezzo fuori e un pezzo tocca la linea se guardate la scarpa della gamba di pianici il contatto sembra fuori ma se guardate la scarpa di pogba la scarpa destra di pogba che dove su mediaset su italia 1 è stato fatto un ingrandimento no sulla gazzetta è stato fatto un ingrandimento mi sembra se gli è stato fatto un ingrandimento oppure dov'era sì sì no scusate mediaset premium un ingrandimento con una linea dove c'è una freccia che va verso la scarpa di pogba è una linea che va giù e dove tocca la linea cosa corrisponde la scarpa di pogba corrisponde nella linea dell'area quindi mi dispiace per voi ma è calcio di rigore invece voi romanesti avete fatti video rigori inesistenti tipo pogba rigore nettissimo su totti ma noi siamo sicuri che abbiamo visto la stessa partita ma voi ne siete sicuri io penso che voi dovete smettere di fare di ridere queste stronzate io penso che dovete smettere di fare i grandi di fare i grandi quando vincete con le squadrine poi venite ad orine vi spaccamo sempre il culo questa è la realtà che vi spaccamo sempre il culo non perché c'è l'arbitro perché se finiva 2 a 2 le polemiche non c'erano ma è finita tra due ah e non ho detto questo loro si sono lamentati anche del del fuorigioco di vidal sul gol di bonucci dato che voi voi romanisti non le sapete le regole e io ve le imparo le regole del pallone perché sono 12 anni che guardo il pallone quindi ci capisco un pochino direi allora la regola del fuorigioco dice che l'attaccante il giocatore che è in fuorigioco non deve togliere la visuale dal supera quindi lui vede partire il tiro assolutamente vede partire il tiro e dopo c'è il difensore c'è il difensore che copre un po' la visuale però non gliela copre c'è un po' un po' troppo è sulla linea di visione con una gamba però la gamba non fa niente quindi lui vede perfettamente partire il tiro si vede proprio dal fermo immagine quando bonucci calcia si vede proprio skorupski che guarda bonucci quindi lui vede partire il tiro vidal non può materializzarsi ma lui non interferisce sull'azione quindi questo è un gol mi dispiace per voi regolarissimo e lo dice la gazzetta tutto quello che ha detto la gazzetta è quello che penso io tranne su una cosa e questa cosa la condivido su tutto sport tutto sport ha detto che i tre rigori non c'erano però c'è la rigore su marchisio sul rigore di marchisio sono d'accordo quelle calce di rigore cari ragazzi ma dato che a voi romanisti non ve ne frega un cazzo voi pensate solo a rompere i coglioni è ovvio non ve ne frega niente e quindi il rigore di marchisio non lo dicete non lo dicete non lo dicete scusate sto parlando un po troppo sto parlando male non lo dite no non lo dicete non lo dite scusate queste le cose non le dite queste non le dite perché non mi fanno comoda voi su mediaset premium su premium calcio mediaset premium cesari che un grande arbitro ci capirà sicuramente più di me cosa ha fatto praticamente lui ha fatto un ingrandimento sulla gamba sinistra di ore basse se si fosse contatto con quella di marchisio ma sbagliato perché lui deve fare ingrandimento deve fare il cerchio sulla gamba destra di ore basse che colpisce proprio sul fondo schiena marchisio quelle cazzo di rigore netta e ammunizione per ore basse ma voi queste cose non le dite non le dite e noi non vinciamo perché c'è l'arbitro noi vinciamo perché siamo più forti perché il gol di bonucci l'ha fatto rocchi l'ha fatto rocchi il gol di bonucci cioè il gol di bonucci chi ce l'ha fatto ha tirato rocchi ha tirato no bonucci ha fatto un gol incredibile ve l'ha messo in culo un'altra volta e questa è la realtà noi siamo prima e voi rosicate perché è così voi siete di piagnoni voi piangete sempre fate i grandicelli poco prima della partita poi piangete sempre e questa è la vostra indole voi siete di piangioni di piagnoni di piagnoni voi sapete solo rosicare e lamentarvi dell'arbitro è questo che sapete fa e dico agli parlamentari smetteteli di fare interperanze parlamentari pensate di salvare sto paese che sta morendo di fame invece di pensare all'arbitro rocchi per favore va bene grazie io ci sono dei miei colleghi colleghi per modo di dire che fanno video come me che però guadagnano molto di più perché hanno iniziato di più e poi probabilmente seguiranno di più che dicono che rigore di pogba non c'era ma voi siete sicuri che avete visto il contatto di pogba se no ve lo faccio vedere io il contatto di pogba non c'è niente da spiegare perché piani ce lo colpisce nettamente sulla gamba destra lui sulla linea di rigore come dice la gazzetta pogba sta pizzicando l'area di rigore quindi calcio di rigore ma che cazzo ve lamentare ma cosa cazzo andate a cercare ma che cazzo avete visto ma che vedi volemo parlare volemo parlare del fallo del contatto mano l'asse e morata vogliamo parlare di quello quello l'avete detto un cazzo morata fa un'entrata dura secondo me da munizione invece l'abito dà il rosso e rossa mano l'asse e secondo me morata il rosso non lo doveva prendere perché non ha fatto niente ha preso una testata e due spente che deve fare che deve fare adesso voi non vi renderete conto se ci sono gli piaciuti favore della roma cosa scateno io farò i video e li pubblicherò uno a uno ogni partita della roma in cui avrà un favore per farvi vedere quanto non dirà niente nessuno smettete così smettete di fare piagnoni e ammettete una volta una volta nella vostra vita che la juventus vi spaccherà sempre il culo è la squadra più forte e ha ragione totti che voi rivedete sempre secondi su questa ragione ma non perché c'è l'abitro perché voi siete siete una squadra dei ridicoli siete una squadra dei ridicoli ve lo dico io siete una squadra dei ridicoli e vi dovete vergognare basta sapete fa i grandi celli poco più sul pre partita e poi quando è finita la partita piangete perché perdete sempre piangete quindi semplice prendersela con l'arbitro quando si perde ciao raga è sempre forza juve a proposito farò un commento pre partita probabilmente giovedì quando perché venerdì gioca l'italia con l'azzerbaijan a proposito se voi se voi anti juventini e non potete vedere la juventus venerdì ti fate a zerbaijan perché se voi voi siete anti juventini non potete tifare per l'italia ciao ragazzi